appena introdotto l'innominato federigo gli andò incontro con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte come a una persona desiderata e fece subito cenno al cappellano che uscisse il quale ubbidì i due rimasti stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi l'innominato che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile piuttosto che condotto da un determinato disegno ci stava anche come per forza straziato da due passioni opposte quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno e dall'altra parte una stizza una vergogna di venir lì come un pentito come un sottomesso come un miserabile a confessarsi in colpa a implorare un uomo e non trovava parole né quasi né cercava però alzando gli occhi in viso a quell'uomo si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insieme e soave che aumentando la fiducia mitigava il dispetto e senza prendere l'orgoglio di fronte la batteva e dirò così gli imponeva silenzio la presenza di federigo era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la fanno amare il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso non incurvato né impigrito punto dagli anni l'occhio grave e vivace la fronte serena e pensierosa con lacanizie nel pallore tra i segni dell'astinenza della meditazione della fatica una specie di floridezza virginale tutte le forme del volto indicavano che in altra età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza l'abitudine dei pensieri solenni e benevoli la pace interna ad una lunga vita l'amore degli uomini la gioia continua ad una speranza ineffabile vi avevano sostituita una direi quasi bellezza senile che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri e sotto a quel fosco e a quel turbato parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio di una tal visita tutt'animato o disse che preziosa visita è questa e quanto vi debbo essere grato di una si buona risoluzione quantunque per me abbia un po del rimprovero rimprovero esclamò il signore maravigliato ma raddolcito da quelle parole e da quel fare e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque certo ma è un rimprovero riprese questo che io mi sia lasciato prevenir da voi quando da tanto tempo tante volte avrei dovuto venire da voi io da me voi sapete chi sono vanno detto bene il mio nome e questa consolazione che io sento e che certo vi si manifesta nel mio aspetto vi pare egli che io dovessi provarla all'annunzio alla vista ad uno sconosciuto siete voi che me la fate provare voi dico che avrei dovuto cercare voi che almeno ho tanto amato e pianto per cui ho tanto pregato voi dei miei figli che pure amo tutti e di cuore quello che avrei più desiderato d'accogliere e d'abbracciare se avessi creduto di poterlo sperare ma dio sa fare egli solo le maraviglie e supplisce alla debolezza alla lentezza dei suoi poveri servi l'innominato stava attonito a quel dire così infiammato a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancora detto né era ben determinato di dire e commosso ma sbalordito stava in silenzio e che riprese ancora più affettuosamente federigo voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare una buona nuova io ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova ditemi voi se lo sapete qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio che dio va toccato il cuore e vuol farvi suo rispose pacatamente il cardinale Dio 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 se lo vedessi se lo sentissi dov'è questo Dio voi me lo domandate voi e chi più di voi l'ha vicino non ve lo sentite in cuore che vopprime che vagita che non vi lascia stare e nello stesso tempo vattira vi fa presentire una speranza di quiete di consolazione di una consolazione che sarà piena immensa subito che voi lo riconosciate lo confessiate l'imploriate oh certo ho qui qualche cosa che mi opprime che mi rode ma Dio se c'è questo Dio se è quello che dicono cosa volete che faccia di me queste parole furono dette con un accento disperato ma Federigo con un tono solenne come di placida ispirazione rispose cosa può far Dio di voi cosa vuol farne un segno della sua potenza e della sua bontà vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi che mille e mille voci detestino le vostre opere l'innominato si scosse e rimase stupefatto un momento nel sentir quel linguaggio così insolito più stupefatto ancora di non provarne sdegno anzi quasi un sollievo che gloria proseguiva Federigo ne viene a Dio sono voci di terrore voci di interesse voci forse anche di giustizia ma di una giustizia così facile così naturale alcune forse purtroppo di invidia di codesta vostra sciagurata potenza di codesta fino ad oggi deplorabile sicurezza d'animo ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita ad accusar voi stesso allora allora Dio sarà glorificato e voi domandate cosa Dio possa far di voi chi sono io pover uomo che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavar da voi un tal signore cosa possa fare di codesta volontà impetuosa di codesta imperturbata costanza quando l'abbia animata infiammata d'amore di speranza di pentimento chi siete voi povero uomo che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male che Dio non possa farvene volere e operare nel bene cosa può far Dio di voi e perdonarvi e farvi salvo e compire in voi l'opera della redenzione non sono cose magnifiche e degne di lui o pensate se io mi ciattolo io miserabile e pur così pieno di me stesso io qual mi sono mi struggo ora tanto della vostra salute che per essa darei con gaudio e gli mette testimonio questi pochi giorni che mi rimangono o pensate quanta quale debba essere la carità di colui che mi infonde questa così imperfetta ma così viva come vi ami come vi voglia quello che mi comanda e mi ispira un amore per voi che mi divora a misura che queste parole uscivan dal suo labbro il volto lo sguardo ogni moto ne spirava il senso la faccia del suo ascoltatore distravolta e convulsa si fece da principio attonita e intenta poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa i suoi occhi che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime si gonfiarono quando le parole furono cessate si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto che fu come l'ultima e più chiara risposta Dio grande buono esclamò Federico alzando gli occhi e le mani al cielo che ho mai fatto io servo inutile pastore sonnolento perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia perché mi faceste degno d'assistere a un si giocondo prodigio così dicendo stese la mano a prender quella dell'innominato no gridò questo no lontano lontano da me e voi non lordate quella mano innocente e benefica non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere lasciate disse Federico prendendola con amorevole violenza lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti che spargerà tante beneficenze che solleverà tanti afflitti che si stenderà disarmata pacifica umile a tanti nemici è troppo disse singhiozzando l'innominato lasciatemi monsignore buon Federico lasciatemi un popolo affollato v'aspetta tant'anime buone tanti innocenti tanti venuti da lontano per vedervi una volta per sentirvi e voi vi trattenete con chi lasciamo le novantanove pecorelle rispose il cardinale sono insicuro sul monte io voglio ora stare con quella che era smarrita quell'anime sono forse ora ben più contente che di vedere questo povero vescovo forse Dio che ha operato in voi il prodigio della misericordia diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la cagione quel popolo è forse unito a noi senza saperlo forse lo spirito mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità una preghiera che esaudisce per voi un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancora conosciuto così dicendo stese le braccia al collo dell'innominato il quale dopo aver tentato di sottrarsi resistito un momento cedette come vinto da quell'impeto di carità abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federigo e le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra premevano quella casacca avvezza a portare l'armi della violenza e del tradimento di questo sottrarsi diamond l'armi